Il comune di Castellabate avvia le attività informative sull'utilizzo delle risorse del POFEAMP dedicate al mondo della pesca attraverso il partenariato Flag Cilento-Mare Blu. L'attività del Flag a Castellabate consisterà nell'apertura di uno sportello informativo rivolto ai pescatori e agli operatori del settore per comunicare le opportunità derivanti dai bandi legati alla fruizione delle risorse marine, ambientali e storico-antropologiche locali, generando in tal modo opportunità di lavoro. Lo sportello informativo, che partirà dal 7 marzo dalle ore 15 alle ore 18 e tutti i giovedì alternando orario pomeridiano in mattutino dalle ore 10 alle ore 13, aprirà presso l'ufficio Area Marina Protetta, sito in via Roma Santa Maria. Tale sportello accompagnerà le attività del Flag, il cui termine è previsto per il 2022. Il consigliere delegato alla pesca Assunta Niglio commenta che attraverso lo sportello intende offrire uno strumento di orientamento indispensabile per informare sui bandi promossi dal Flag, rivolte alla formazione e all'inalzamento delle conoscenze e delle competenze degli operatori della piccola pesca e ai tanti giovani che volessero rivolgersi alle attività legate alla risorsa mare.